ma ragazzi siete qui da più di quattro basta giocare con i videogiochi datemi i cellulari e andiamo a pescare se volete continuare a giocare videogames cercate di pescare i vostri tablet l'abuso dei videogiochi può creare dipendenza la pesca sportiva vi ha fatto recuperare quello che avete perso il contatto con la natura la tutela e il rispetto dell'ambiente e della biodiversità ehi tu sei pronto a pescare con noi? Spikefish! 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 ! Spikefish!